Musica Ci sono state le elezioni, ve ne sarete accorti chiaramente, è successo un putiferio, c'è una grandissima conclusione, il paese è cambiato, si vede dalle tantissime cartine che si sono alternate in questi giorni sui siti internet e sui giornali. C'è ancora qualche giorno prima che si riunisca il nuovo Parlamento e ci vorrà anche un po' di tempo prima che si dia vita a un nuovo governo. La domanda che vi faccio, anzi vi faccio una domanda a voi, che cosa chiedereste al nuovo governo? Non tante cose, non scriviamo dei plichi, proviamo a utilizzare un linguaggio alla Twitter, 140 caratteri e in poche parole la priorità, la cosa che chiedereste, scegliamone una, una per tutti.